Due giorni di risultati e esperimenti alle frontiere dell'intensità, ieri a Pesche e oggi a Campobasso, scienziati di sette paesi oltre l'Italia e quelli di tre laboratori americani del Dipartimento dell'Energia, insieme a più di una dozzina di università degli Stati Uniti d'America, parlano in videoconferenza dei risultati di un nuovo esperimento di fisica che sta raccogliendo dati per esplorare le proprietà fondamentali della materia e dello spazio, esperimento in cui ha un ruolo importante anche l'Università del Molise. Il gruppo dell'Università del Molise, capitanato dal professor Nanni Piacentino, ha dato un contributo estremamente importante a questo esperimento in quanto si è occupato della messa a punto del cosiddetto sistema di calibrazione che è un aspetto tecnico essenziale per il buon funzionamento dell'esperimento. Nanni ha portato molte competenze, capacità e soprattutto entusiasmo con un bel gruppo di giovani. L'esperimento utilizza il complesso acceleratore del Fermilab di Chicago per produrre un intenso fascio di muoni, gemelli pesanti dell'elettrone, che viaggiano quasi alla velocità della luce. Lo scopo è quello di determinare con precisione il valore di una proprietà conosciuta come G2 del muone. La sede dell'esperimento è un laboratorio che si trova vicino a Chicago, che si chiama Fermilab. Guarda caso è in onore del nostro famoso fisico Fermi, che tra l'altro ha lavorato a Chicago fino alla morte. In questo laboratorio, tra l'altro, la comunità italiana ha collaborato a molti esperimenti, prima di questo, fin dagli anni 70. È un laboratorio che conosciamo molto bene e con il quale interagiamo in maniera molto amichevole da tanti anni. In piena presa dati la collaborazione G2 ha deciso di indire un mini congresso dedicato a fare il punto dell'apporto italiano all'esperimento presso l'Università del Molise. Un apporto importante che sottolinea ancora una volta il valore che oggi conserva la scuola fisica italiana nel contesto mondiale. La nostra scuola di fisica vanta nomi prestigiosissimi nel passato e anche al presente. Non bisogna dimenticare che l'attuale direttrice del CERN è una stimata fisica italiana. La nostra scuola è ancora ai massimi livelli. Non so ancora per quanto, visto l'andamento dei finanziamenti all'università e in generale al mondo della ricerca italiana, ma posso dire che i nostri studenti, i nostri laureati, i nostri dottorandi e anche i nostri ricercatori sono apprezzatissimi e si trovano sempre ai massimi livelli in tutti i campi, massimamente nel nostro campo, nel campo della fisica delle particelle elementari.